Sì, benvenuti di nuovo nel canale di Lion, stiamo giocando a Business Tour e stavolta c'è Lord Max che sta giocando Clicco questo, doppio Vai, tira sti dadi Ho fatto Bali Pignalo Ma lo compro, non so cos'è ma lo compro Allora ti spiego, quello, hai presente nel vecchio monopolo delle stazioni dei treni? Ah, sì sì Eh, solo che se li vengono tutte e quattro vinci Ecco, ha preso pure Cipro Hai già preso metà di quelli, se li vigni gli altri due hai vinto già Ah, bene Eh sì, eh Vediamo un po' cosa combini, va Oh, è bello che stiamo registrando, è così La tua prima partita epica Business Tour Se la ricordiamo tutti Eh, non sto capendo, però ok Ah beh Ok, piglio Hong Kong Ah, se vado a rapinare la banca, così ho vinto il gioco Ah, tocca a me adesso Sì, caro Ok, tiriamo questo E esplode la bomba Nooo, ha preso pure Dubai La fortuna del principianto di mortacci tua Vedi che più prendi i resort e aumenti le caselle Vedi 100.000 Eh, 100.000 ho guadagnato Eh sì, eh Ah, Lion Lion Oh Ma se io ti lancio un MP mentre è il tuo turno, avresti bloccato un giro per un giro Se ti lancio non ho capito Se ti lancio un MP quando è il tuo turno Ah, che ridere Adesso ricompro, così quello è mio Quindi ora tocca a me Yes Se pigli inizia, t'ammazzo Ah, New York Eh vabbè, dai Ma perché non hai messo le case? Ah, non sapevo E come, ti ha passato la casella Vabbè Ma che ne so Guarda, avresti già guadagnato un altro mallopone se tu li avessi messo No, te l'ha ricomprato Però c'è guadagnato Però nella ricompra c'è guadagnato di più Vado a lanciare granate dal balcone, tornerò Eh, 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 eh Ecco, quello sta a cattar Las Vegas E il MP io ci cago Eh Tocca a me adesso Eh sì Ecco, Skull ha avviato anche lui i business tour Granata Sì I canciali Beh, ci ho messo la casettina Oh E spendi gli sti soldi che poi guadagni Caricamento da diritto Adesso vediamo gli altri che combinano Lione Uno dei territori più costosi quello, tra l'altro Ecco, ti pareva Ho dovuto vendere Hong Kong per pagare il cadone Il cadone E poi ci sei andato Che vuoi da me? Il ton 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 del cazzo Ehi, sta buono Però intanto Ate 25 mila Ehi, sono ricco Guarda, tu 2019 mila Mortacci Tu Ecco Mi ha comprato granata No, è mia No, no Come? Ah, si può anche ricomprare? Certo che si può Ma che mafia Sì, ma non te l'abbiamo ricomprato È ancora tuo Io pago Dai Ma come paghi? Ci stai guadagnando Io voglio Berlino Ah, no Nel senso che hai pagato per uscire dall'isola perduta Ah, ho capito Sì, sì Hai fatto bene Guarda lì C'ha Tre resort E si è beccato già qualche territorio Eh, altri cento Cento sacchi Va Eeeee Altri cento sacchi Di mortacci tua Doppio No, Roma Sì, vabbè Quello si è preso Roma Vabbè Ecco Il campionato mondiale Vedi Sceglie Vedi Una casella Dei suoi Per mettergli il mondiale Così aumenta il valore Ehm Quale è la partita di Rispada? Stiamo giocando alla 2-5-5 Ma Non ti puoi unire ancora a noi Ok Intanto puoi provare una partita Giusto per provare a vedere come funziona Sì No Ebbè Pignolo Sidney Quello è uno dei più importanti Eh Beh Bravo Bravo Dai Vai Tira Tocchio? Eh sì Hai fatto doppio Tocchio Mizzera Quello è il più costoso di tutti Piglialo 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 Ah Vedi che c'è con la casettia Solo 200 sacchi Ehm Quella Merda Beh Vai Oh Ecco Uno dei territori con la bandierina Che quelli aumentano il valore Che ma sono povero adesso Sì ma Dato ci hai investito No Povero Mica tanto 404.000 C'è ancora E vedi Quello ha ricomprato il territorio Vai a fare su Chicago Dai Sì Che culo D'acciaio Io adesso non so quali sono i miei Ecco Pigliati 100 sacchi Ah beh Grazie Prego Tocca a me Sì Io te l'ho detto che se siamo in 4 a fare sto gioco qua viene fuori un casino Eh io pago Vabbè affanculo Grazie Osaka Eh sì E lui Osaka molto Infatti si è visto Altri 100 sacchi per te Bene Grazie Prego Ecco Te pareva Se pigli Nizza Mi non la strezza Da Che cosa Non posso Quindi Non posso pagare Cosa devo vendere Eh devi vendere ad esempio Granada o Pechino Dai vendo Granada dai Dai Ah non posso Sì seleziona Oh Ma dai Che mafia Eh che vuoi da me Il monopoli è così Dai Beh guarda Zitto zitto ci stai guadagnando lo stesso Eh Aspetta tu Eh Sto sbancando Lunario qua Shanghai Ehi che succede Perché non me lo fa comprare Sei impallato il gioco Si è bloccato il gioco Ah che laggata Vabbè Hong Kong Mi ha fatto prendere Ma l'ho fatto andare a Shanghai Poi mi ha fatto tornare indietro Vabbè Non ho capito che è successo Max ci sei? Sì 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 Ok Ok Mi sa tanto che se fiscano sulle tue caselle Lì Perché hai buone possibilità Tra Cipro Berlino Londra Sydney Oltre Dubai Lì è l'angolo pericoloso Grazie Ecco 100 sacchi per te Max Grazie Prego È sempre un piacere Ah non ho dubbi Soprattutto se si tratta di incassare E io lo ricompro Ma metti qualche All'albergo Porca miseria Che puoi farlo Eh no Poi tanto dopo Lo devo rivendere So già Ma perché Chi l'ha detto scusa Ah vabbè Te l'ha ricomprato Lo sapevo Eh Ci ho fatto i soldi Hai visto cosa vuol dire Non mettere case alberghi Eh Testina Ti ha abbassato anche il valore di Sydney Che era 720.000 Ecco Ho pure messo lo scudo Eh Ho avuto il bonus Per scappare dall'isola perduta gratis Ho fatto camare Eh sì Dai dai Roma Eh sì New York Ah va 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 Ah no giustamente Non ha più soldi Sì ma tira Sti dadi Next Forza Ehi Quanto odio I player che fanno così Guarda Dai tira E tira I mortacci Tua Ecco Tokyo 200 sacchi Chi è entrato Dovino Ahi Non è abbastanza Per acquistare uno del resort Ma Ma Ante Siamo qua con Max A business tour Adesso lo sto andando a prendere Ok Ecco Lo si è preso Siviglia Sto che mi è venuto a casa Eh dai Mamma mia Quanto è lento sto qua a tirare i dadi Ok 75 sacchi Mi ripiglio Allora Eh 200 sacchi a tia Grazie Prego È sempre un piacere Non avevo dubbi Ma va che sto fortunato qua Va Vabbè Eh fortunato parla di balle Eh guarda 600 Proprio lì Ma pure Tassa 244 mila Senti questo come lagga La vedete a me di tanto che sta laggando a merda Ma chi io O sono io no Sono io per la connessione di merda perchè sto scaricando Eh mi sa che sei tu Perché noi ci sentiamo benissimo fra di noi Allora sono io perchè sto scaricando quel gioco Eh esatto Quindi la connessione di cacca ma ce l'hai tu Eh già Allora Questo mi ha fregato con Shanghai Dai Max Eh Dai Vabbè è mio Eh adesso mettono in un albergo Oh Qualc'altro soldino me lo chiappo Inizia Vabbè La vaffanculo Cara mia E' Hamburgo E' fatta Mortacci sua Vabbè E' piccolissimo come gioco eh Eh E' piccolissimo come gioco Si è piccolo ma T'acchiappa con Ma dai ma di nuovo E che vuoi Ma ho fatto i coglioni sto lione Ma che palle Vendi Pechino Non vendere i Resort Questo è importante Oh Si ho capito amore Ehi Che che sta ravanando Ma Pegliti un po' di soldi Grazie Prego Tanto non sono miei Vabbè E' di quel fumaga Lì Ha chiesto fumaga Mincega E' salito a 3,1 milioni Quello Stiga Povero E' un territorio Vabbè Porca misa Non posso comprarlo Parigi E vabbè Dai Max Madrid Madrid Ma costa poco Puoi anche comprarlo Eh infatti lo compro Che Metti l'albergo Bravo 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 Ecco Tour mondiale Quella casella Ti fa andare Adesso al prossimo turno Dove vuoi tu Sulla mappa Ah Si A patto di avere 50.000 Gigi Eh si E li devi spendere Per 50.000 Ebbè Diglietti 90 sacchi Grazie Prego Caricandole queste giornaliere Sono qualche aspetto Da mezz'ora Si perché ci sono anche Dei tornei speciali Grazie Max Eh va Prevedo molto astio Per colpa di questi giochi Io già lo sapevo A Nox L'altra volta Quando ha giocato E si è lamentato E che compravo Tutti i territori Alla fine Quando ho avuto Il mondiale Sulla mia casella Che mi fa aumentare Di valore L'ho lasciato Completamente in mutanda L'ho mandato In bancarotta Vabbè Dai Dai 113.000 Mizzega Ebbè Dai Sei ancora in piedi Ma guarda 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 Bene Bene Hai quasi recuperato Quello che hai perso poco fa Ma quanto ci mette Eh ci mette un po' all'inizio Mmm Cioè ma veramente 5 giga di aggiornamento È una cosa che detesto Quando fare un aggiornamento Così grosso Tutto di un po' Eh si Ecco uso la carta gratuita Mi fa uscire dall'isola perduta E tiro Ecco 270.000 a te Vabbè Grazie Prego Eh Raffanculo Perché Beh Ah si Las Vegas Sì sì Già spesso Ho riperso Vabbè Ma comunque Non hai perso territori Questa è la cosa più importante Tour mondiale Ecco Ti pareva Vuoi andare a Nitz Ci può rubare no? No Ah che palle Eh si Compra vendi Caricamento Oh Bene Vuoi iniziare il tutorial? Sì Bene Max No Eh vabbè Vendo Milano Ma guarda sto principiante Pena mossa da Ah Eh te pareva Lione Vaffanculo Te lo fa ricomprare? No Peccato Ma è terza volta di fila Che finisco lì Passando Pappe te l'ho detto Che è una delle caselle più importanti Lì Inizio Vabbè Vabbè Ci sono capitato pure io Vai 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 Ah eh Te lo puoi ricomprare Vaffanculo Hai fatto bene Come cazzo si fa a tirare i dadi? Come? Come si fa a tirare i dadi? Prendi il computer Lo lancio Aspetta C'è scritto il pulsante Tira Oh Questo paga Guodo No Che paga Paga Schifoso C'è scritto Quando tu non tira i dadi C'è un cerchio lì al centro Oh Soldi Grazie Due Uno Partita terminata Mi fa tirare i dadi ragazzi Oh Lordmax Si è arrivato terzo Io sono l'ultimo Eh però Perso 500m Eh vabbè Ragazzi abbiamo finito Chi è online? Io ma Sto cercando di capire Come Cazzo si tirano i dadi Allora Allora ascolta Ascolta Esci dal Dal tutorial E Adesso facciamo una partita Insieme Così impari Durante il gioco Va bene Basta che mi spiegate Che non siate Trazione Allora Vai alla schermata Principale Dove c'è gioco Online Va bene Allora ti aspettiamo Non si può creare Nient'altro Alla lobby Aspetta un attimo Ma Con le cippe E con l'oro Cosa si fa? L'oro serve Per comprare Determinati bonus O Per aprire Le casse Che loro Ti danno Come premio Allora serve Giusto per comprare Le fisse No no Ma anche per Per aprire le casse Perché ci sono Dei premi giornalieri Obiettivi No Sì Negli obiettivi Puoi vedere Ad esempio Come l'hai conseguito Il pulsante azzurro In angola destra Ti ti mostra Cosa comporta Avere quei bonus Ben tornato C'è tornato Non la stessa partita Di prima Complimento S'è entrato? Sì Ma ora Non uscire Dalla partita Non mi si fa Sciacca Ma ci sei o no? È veramente Crashato Poi ritorno Dalla partita Che stavo giocando L'hanno Magano 5 minuti Adela Tra poco Prima che inizio Aspetta Allora Andiamo noi Intanto Dai Allora Andiamo su Gioco online Ragazzi Andiamo Ecco Sul tavolo 2-5-1 Ok Aspetta Ah io sono dentro 2-5-1 Sì E ormai Vabbè Usciamo Aspetta Si può E ormai Ho fatto pronto Per giocare Toglilo Non posso Alta F4 Vabbè Posso anche Sì